Qualche motivo di ottimismo ad Alessandria sulla soluzione dei complessi problemi di bonifica del vecchio teatro comunale chiuso e inaccessibile a causa dell'amianto Il recente successo dello spettacolo di Fausto Paravidino il diario di Maria Pia in scena al sociale di Valenza in prima nazionale ha portato un po' di sereno al teatro regionale Alessandrino diretto dal confermato Gabriele Vacis nonostante tutte le difficoltà Siamo passati da un bilancio di 4 milioni e 800 mila euro dell'anno scorso a un bilancio di 2 milioni e 100 mila euro malgrado questo abbiamo voluto porre l'accento sulla produzione e dedicare questa produzione di quest'anno ai giovani a una compagnia giovane, a un testo di un ragazzo giovanissimo nostro, Fausto Paravidino con una compagnia di ragazzi che intendono tutti sulla regione Il problema principale del teatro regionale Alessandrino il cui consiglio di amministrazione è ora pienamente operativo riguarda come si ricorderà la chiusura per la presenza di amianto nella struttura del comunale di Alessandria dopo tante polemiche e l'apertura del sostitutivo e provvisorio teatro tenda la buona notizia è che i delicati lavori di bonifica sono cominciati si concluderanno probabilmente in primavera Cominciamo a lavorare e per 100 giorni ne abbiamo tempo in cui ci sarà restituito il teatro con le sue sale Grazie 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 a tutti